ebbene carissimi amici benvenuti e bentornati ancora una volta sul mio canale youtube quest'oggi proveremo ancora una volta a vincere il 90 con un nuovo metodo gratuito metodo spia per tutti voi questo metodo spia ovviamente sarà valido per sempre a vita quindi non a scadenza e potrete sempre utilizzarlo ogni qual volta la spia 1 si presenterà sulla rosa di genova infatti il metodo si intitola la spia 1 vince il 90 ogni volta che il numeretto 1 sortisce sulla rosa di genova giocheremo per i successivi 13 colpi il 90 secco a palermo anche in quarta e in quinta posizione determinata abbineremo i soliti otto numeri fissi per formare i nostri ambisecchi quindi otto ambisecchi ovviamente il capoggiungo e il 90 sul palermo questa è la condizione fisso 90 e lambata e questi sono gli otto abbinamenti da abbinare quindi non dovete fare calcoli dovete solo formare gli ambisecchi copiare e rigiocare e giocare 16 50 41 73 79 80 86 e 23 questi sono gli abbinamenti da giocare con il 90 di palermo dopo che la spia 1 sortisce a genova potete magari stoppare il video e ricopiare gli abbinamenti vediamo un po' di statistica gli ultimi 20 casi spie esaminati per esempio il 19 luglio andammo a vincere il 90 a palermo con l'ambosecco 90 80 al sesto colpo e poi ancora al settimo colpo doppio ambosecco 90 86 90 e 16 quindi unica condizione di gioco 3 ambi chiaramente vi consiglio di non fermarvi la mia vincita che sia di ambata o di ambo ma di continuare fino al tredicesimo colpo perché molte volte i miei metodi spia danno vincite multiple state attenti apro e chiudo parentesi al metodo spia 48 con l'84 che abbiamo a bari perché l'abbiamo già vinto l'84 al bari però potrebbe sortire ancora una volta e dare l'ambosecco quindi attenzione anche al metodo spia 48 che ho presentato precedentemente perché potremmo avere un'altra vincita 23 agosto guardate lo che è successo undicesimo e tredicesimo colpo doppio acqua 90 80 90 73 e ancora il 90 73 questa è la prova che i numeri non hanno memoria perché molti di voi mi chiedono e ricevo molte volte delle mail dove molti e molta gente molti di voi molti utenti mi dicono e va bene 90 è già uscito quel numero è già uscito non lo gioco più invece non è vero perché i numeri si ripetono e quindi togliamoci da questa convinzione che un numero uscito non è più buono è questa è anche un ulteriore prova di quello che dico 4 ottobre 2018 ambata 90 all'ottavo colpo guardate cosa è successo addirittura tre ambiti secchi sortiti all'ottavo colpo undicesimo colpo guardate cosa è successo qua 90 50 90 79 90 41 90 16 guardate cosa è successo con questa condizione abbiamo vinto praticamente degli 8 ambiti che abbiamo in gioco ne abbiamo vinte addirittura 7 7 ambi secchi con una sola condizione andiamo ancora avanti 11 ottobre guardate triplo ambi secchi al quinto colpo ottavo colpo guardate quanti ambi vince questo metodo vi scorro un po' la statistica per farvi rendere conto di cosa combina questo metodo state molto attenti a giocare questo elaborato guardate è chiaro che ci saranno poi delle condizioni che daranno solo l'ambata purtroppo ma accade come ci saranno delle condizioni che ci daranno diversi ambi come ci saranno condizioni che ci daranno un solo ambio ok però è un metodo veramente molto forte guardate per esempio aprile 2019 siamo stati ancora vincenti maggio 2019 doppio ambio guardate a giugno l'ambio secco il 4 luglio è stata mi sembra una delle ultime condizioni di gioco abbiamo avuto abbiamo vinto l'ambio 90 86 al settimo colpo il 16 luglio abbiamo vinto il 16 luglio abbiamo vinto l'ambio 80 86 ma è ancora in corso perché ovviamente è ancora in corso ma non è quello che ci interessa è quello che è accaduto il 10 di agosto quando la spia 1 si è presentata sulla ruota di genova quindi a partire dall'estrazione di martedì 13 agosto noi giocheremo il 96 a Palermo anche in quarta e quinta posizione gli abbineremo il 16, il 50, il 41, il 73, il 79, l'80, il 86 e il 23 per massimo 13 colpi di gioco questo metodo cari amici negli ultimi 20 volte che la spia si è presentata a Genova abbiamo vinto 28 ambate e la bellezza di 49 ambisecchi a ruota quindi attenzione a girare questa previsione perché sapete bene quante volte abbiamo vinto l'ambo secco a Palermo con il 90 con diversi metodi spia presentati tutto è testimoniato sul mio canale quindi state attenti perché potremmo ancora una volta andare a centrare un bellissimo ambo secco questa che era amice la spia 1 di Genova che vince il 90 a Palermo incrociamo le dita e speriamo di essere vincente ancora una volta con questo bellissimo 90 a Palermo per adesso un saluto a tutti Mister Sbancolotto è un saluto a tutti Grazie a tutti.